Assessore, lei ha già risposto alle tante polemiche che sono nate dopo l'annuncio di questa delibera. Ci sembra di capire un po' un atto dovuto. Polemiche inutili e strumentali. Noi abbiamo rimandato il Consiglio Comunale il 24 di luglio aspettando che fosse approvato il decreto in legge nella speranza, così erano le altisonanti promesse che venivano, che quel decreto approvato in legge ci avrebbe permesso di assumere il personale educatore senza passare dalla lista delle province che non c'è. Invece il risultato straordinario è che il decreto è stato approvato in legge ma che in realtà la legge ci riobbliga ancora a passare dalle province. Noi abbiamo mandato una lettera al Presidente dell'Anci Fassino, il quale ci ha risposto il 30 di luglio che effettivamente era presumibile che avremmo dovuto passare dalle province. Abbiamo già il 3 di agosto mandato una lettera alle province sperando che ciò non fosse necessario. Ciò è necessario. Bisogna aspettare almeno un mese perché potrebbero venire fuori dei profili di questo tipo anche se sappiamo che il Pezzale delle province non è sostanzialmente adatto per fare gli educatori però la legge questo ci dice che se è una legge stupida vuol dire poco va rispettata. 3 agosto più un mese fa 3 settembre. Io invito chiunque a dimostrarmi che il 3 settembre viene dopo il primo settembre e quindi io la scuola l'apro quando deve. Non è che si può nascondendosi dietro a un'ideologia farlocca non dare risposte. Noi abbiamo nel nostro programma quello di aumentare il più possibile l'offerta diretta. Il programma dura 5 anni non 20 giorni e questo faremo. Abbiamo anche già cominciato a fare un reclutamento interno per capire quanto personale in forza l'amministrazione comunale sarebbe disponibile a poter essere utilizzato come educatore. Però c'è un punto oltre il quale non andiamo che è il buon senso e il buon gusto. Allora portare avanti una battaglia ideologica. Io oggi sono disturbata dal fatto che alcuni genitori e alcuni maestri siano venuti in consiglio comunale con la fascia nera al braccio. Ecco io credo che dovrebbero molto riflettere. La fascia nera si mette quando muoiono i bambini non quando si garantisce un servizio. E questo da un punto di vista educativo mi fa anche pensare che forse c'è molto da ragionare.